Luca Frigo è un Bolzano che arriva da quattro sconfitte consecutive, ma a Vienna si sono visti netti ceni di ripresa. Come arriva il Bolzano alla partita di domani contro il Fervar? Sì, diciamo abbiamo giocato molto meglio secondo me tutti i 60 minuti rispetto alle partite precedenti. Domani sicuramente arriviamo con un altro spirito perché sappiamo che dobbiamo portare a casa dei punti adesso e la partita di martedì contro il Vienna ci ha dato una spinta. Due precedenti contro il Fervar sorridono al Bolzano ma adesso non bisogna sottovalutare nessun avversario, cosa ne pensi della squadra ungherese? Sono una bella squadra, tutte le squadre qui in questa Lega possono battere chiunque, il Fervar sì, noi abbiamo vinto le altre due ma sicuramente non verranno qui a scherzare, vorranno prendere anche loro tre punti.